Ora ragazzi bentornati a questo nuovo episodio del mio corso completo su GarageBand e oggi andiamo a parlare di riverberi e delay Ehi questo video corso è gratuito per tutti gli iscritti del canale e per questo sponsorizzato da me stesso Se vuoi supportare la creazione di questo video corso ti prego di iscriverti al canale lasciare un like e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensi Ogni giorno per tutto il mese di settembre ci sarà un nuovo episodio qui sul canale alle 14 però se vuoi sbloccare e scaricare tutti gli episodi assieme puoi tranquillamente acquistare il corso nel link che ti lascio in descrizione per soli 9,99€ Inoltre sempre in descrizione ti lascio il link al gruppo Telegram dove potete parlare del corso scambiarvi idee, farmi sapere i vostri feedback, segnalarmi i problemi e tutto quello che volete C'è un canale dedicato alle offerte audio dove segnalo gli sconti più importanti abbiamo avuto microfoni a 16€, schede audio a 30€ e così via Un elenco della mia attrezzatura consigliata per il vostro home studio sempre roba molto economica che potrete trovare sempre in descrizione Inoltre per ogni lezione vi lascerò in descrizione il download di tutti i plugin file audio, file midi, risorse utili per il buon procedimento del corso Fine del messaggio promozionale vi auguro buona visione Siamo sempre qui nella nostra sessione di GarageBand incasinatissima e voglio farvi vedere veramente al volo come funzionano su GarageBand il riverbero e il delay GarageBand fa veramente un ottimo lavoro a rendere semplicissimo l'utilizzo di delay e riverberi all'interno del suo software Perché dico questo? Perché nella vita reale anche il delay e il riverbero richiedono una certa cultura perché non sono effetti che si possono buttare così a caso e sperare che funzionino nel mix Nonostante sia il concetto generale pensare Oh la voce è asciutta ci butto un riverbero, un delay e via Anche quelli richiedono parecchio studio GarageBand ci fa il favore di semplificare tutto Questa cosa è molto stile Apple Vi spiego subito cosa intendo Ritorniamo nella nostra sessione super incasinatissima Ritorniamo sul nostro loop di chitarra Io elimino tutti i plugin che abbiamo adesso E ci concentriamo sulla sezione in fondo Vedete che abbiamo due levette Echo Master e Riverbero Master È semplice come la state pensando Io faccio partire il mio suono Dopodiché mi basterà selezionare il livello di riverbero e di echo che voglio sulla mia traccia Proviamo a sentire Questo è il mio riverbero E questo qui è l'eco sparato al massimo E se ci avete fatto caso L'eco era anche a tempo Con i 90 bpm che avevamo impostato Per il nostro progetto GarageBand però non si ferma qui E ci chiede Vuoi modificare le impostazioni di riverbero ed echo Certo che vogliamo modificarle Al che lui ci porterà sulla traccia master Precisamente nella sezione Effetti Da qui scorrendo in alto potremo vedere Le nostre impostazioni per l'eco master E per il riverbero master Nonché le impostazioni degli altri riverberi Impostati sulle altre tracce Questi qui non li mette GarageBand in automatico Ma li attivate voi nel momento in cui scegliete un preset Per una traccia audio o per uno strumento MIDI Quindi immaginiamo di voler cambiare il delay Selezioniamo la voce echo master E ci scegliamo uno dei preset che GarageBand ci mette a disposizione Molto semplice Altra impostazione Possiamo decidere se tenerlo acceso O spento Fine Per il riverbero Assolutamente stessa cosa Possiamo decidere se un ambience Una stanza Un club Una hall Ma oppure acceso O spento Questo qui è il massimo di personalizzazione Che GarageBand ci consente di fare Chiaramente poi per ogni riverbero Possiamo andare a sistemare il colore Il volume del riverbero Il tempo del riverbero La coda Quanto sarà lungo Ma per quanto riguarda preset E varietà di plugin Questo qui è il massimo Che vi potete aspettare Se volete più libertà Cosa che consiglio a chiunque Non sia proprio agli inizi Potete disattivare completamente Echo e Reverbero Master Fregandovene E installare Un riverbero Personalizzato Ok Io per esempio Ho questi qui Come Riverbero E delay Oppure ci sono I riverberi Sempre nel pack Melda Che vi ho fatto scaricare Un paio di episodi fa Potete sbizzarrirvi Come volete Però Se volete rimanere Sul semplice Sappiate che GarageBand Vi mette a disposizione Queste due opzioni Ragazzi E questo Era tutto quello Che dovevate sapere Sulle funzioni integrate Di Reverbero E delay All'interno di GarageBand Io vi ringrazio Per essere stati con me Vi aspetto domani Per un prossimo episodio E vi invito Come sempre Ad iscrivervi al canale Lasciare un like E farmi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Di questo corso Finora Ci vediamo domani Ciao